Anche quest'oggi c'è stata un po' la sensazione che la Cremonese potesse farcela a guadagnare i tre punti? Sì, sicuramente, potevamo fare tre punti ma si ha guadagnato un punto che era importante anche per noi. Come hai vissuto la tua partita nel primo tempo in panchina? La Cremonese ha fatto un po' fatica nel primo tempo, poi nella ripresa si è vista un'altra Cremonese. Sì, magari la partita sarà così, non è che per un cambio, per due, quello che noi lavoriamo sempre per stare con la mentalità alta, sempre concentrato e nel secondo tempo l'abbiamo fatta. Si apre una settimana molto impegnativa, c'è la Coppa Italia e poi arriverà la Sampdoria a Cremona. Sì, sì, è una settimana bella per me, allora dobbiamo fare bene la Coppa e dopo vogliamo anche in Cremona fare tre punti. Sì, sì, è una settimana bella.